Un regalo di fine anno. È così che il sindaco di Sassari, Nanni Campus, ha definito il finanziamento da 16 milioni di euro ottenuto dal Ministero dell'Interno per la riqualificazione dell'ex colonia campestre, lo storico complesso ottocentesco nel quartiere di Cappuccini. Un intervento che si affianca alle altre opere di recupero di aree abbandonate che il primo cittadino ha elencato nel corso del bilancio di metà mandato. Un importante intervento nel sito di Via Savoia del valore di 1.600.000 euro risale al 2002, nell'ambito di un più ampio progetto da oltre 3 milioni di euro che però non ha mai avuto seguito. Nel 2014 poi c'era stata un'attività di restauro dell'ex asilo, poco dopo nuovamente abbandonato. Oggi quindi, con la partecipazione al bando del Ministero, l'amministrazione trova le risorse per poter restituire alla città l'area che dovrebbe diventare un parco urbano. In base al progetto, 550.000 euro sono destinati alla sistemazione dell'edificio dell'ex circoscrizione e del giardino, 8 milioni al completamento dell'ex scuola e alla ristrutturazione della vecchia, quasi 6 milioni e mezzo al restauro dell'edificio su Via Zara e altri 900.000 alla sistemazione dell'uliveto storico di 5 ettari, recinzione compresa. La riqualificazione finalmente darà una risposta alle richieste dei residenti della zona, che negli anni hanno chiesto a gran voce l'intervento del Comune, anche per questioni di sicurezza, visto che il complesso è adiacente alla scuola elementare.